Perché adesso voi vedrete che l'immaginario che ne esce dalla lettura fatta letterale del testo biblico sarà per alcuni quantomeno inaspettato, ma sicuramente molto, molto crudele. Ok? Appunto uno potrebbe obiettare e dire sì, ma il Dio del Nuovo Testamento è un Dio buono, è un Dio di amore. Ma io dico, se analizziamo la colonna portante della Bibbia, quindi la struttura, le basi, il Pentateuco, la rivelazione di Dio al suo popolo, quando Dio dà le leggi, quindi dove tutto dovrebbe nascere, allora se ne viene fuori che questo personaggio non è Dio, Gesù, di chi è figlio? Quindi io dico, andiamo a vedere che cosa effettivamente c'è e cerchiamo di analizzare, di andare a fondo in quella prima parte di testo che appunto è il Pentateuco.